Mi ha dato chiamato il Bari che a dire la verità non me l'aspettavo neanche. Ho detto al mio procuratore chiudi subito, se c'è l'opportunità falla subito e non mi interessa la lontananza perché ormai gli anni passano e da solo ormai ci vivi. La trattativa sarà durata un giorno, due giorni neanche perché poi la Juve era favorevole a questa cosa qua. Non è che mi teneva lì a fare niente, era favorevole e sono venuto qua. Mi hanno accolto veramente come se fossi uno di loro da subito, ovviamente con qualche batoste perché fa parte del gioco e poi anche tanti consigli soprattutto da Valerio e anche Alessio Sabbione. Comunque sono gente che i consigli e proprio li aspetti a braccia aperta. In mattinata il dottore mi ha chiamato e mi ha confermato questo tampone positivo. E da lì brutti momenti sono passati perché comunque avevo appena iniziato a giocare con il momento lì. Diciamo che era il mio momento ma poi ci sono passati due mesi che poi il covid e poi la visita che è andata male. Non è facile, però avevo comunque supporto sia dei tifosi che dell'allenatore, dei compagni, di tutti voi. E comunque passi, passa questo periodo perché comunque con l'appoggio di tutti passi. Grazie. Grazie.